No Activity, vi chiedo subito, mi presentate Marcello e Achille, come si presenta la vostra collega al centralino? Marcello è un personaggio sull'orlo di una resi di nervi che sta affrontando un passaggio molto difficile perché è in crisi con la moglie, senza sapere nemmeno perché è in crisi, visto che è considerato che a casa ci sta poco. Ha una capacità di lettura di quello che gli succede intorno molto limitata, ha un passato glorioso in polizia anche se forse non se ne rende conto, non se ne è mai accorto e soprattutto è arrivato a un punto in cui tutto quello che è il suo sistema di valori, anche come maschio, è crollato, si deve ricostruire, non sa da che parte cominciare proprio un po' con Yoga, un po' con Marcella Bell, però la cosa che mi intenerisce molto di questo personaggio è che ha la capacità, una volta che ha preso le misure del suo collega, di togliersi la maschera e di guardarlo e di parlare in maniera sincera di tutte le sue miserie. Questa mi sembra una cosa che è molto simpatica da parte sua e anche molto tenera. A proposito di Marcella Bella, c'è una canzone, un gruppo, che effettivamente è il vostro momento felice, cioè quando avete bisogno o quando lo sentite subito riparte quella cosiddetta presa a beve. Io ho amato, sono strano dal punto di vista di gusti musicali, ho amato molto la musica italiana dei cantautori della mia generazione, quindi adesso ricorro a loro a seconda dei vari momenti e ricorro a loro a una canzone piuttosto che un'altra a secondo di quello che mi serve. Se mi devo dare una carica magari penso a Vasco, se devo essere più languido ricorro ad altro tipo di canzoni, ad altro tipo di personaggi a secondo della languidezza che hanno sparso sulla mia vita in passato. Oltre Marcella Bella non c'è nulla, però dopo Marcella Bella ci sono una serie di musiche che ascolto. Se penso, appunto prima dicevamo, Lucio Dalla ricorda molto la mia infanzia, i viaggi con mio padre in macchina, però quando stavamo al trucco, ci truccavamo, noi sentivamo spesso Vasco Rossi che ricordi la lunga che ti spiega le canzoni di Vasco Rossi, una cosa che in pochi hanno. Quello è stato il momento che vi porterete con voi? Ma di bello o brutto? Bello, bello. No, bello, ma guarda è stato tutto, lo so che sembra piageria, ma è stato tutto molto bello perché, ecco, forse è una cosa che per la seconda stagione, se mai ci dovesse essere, se mai ci dovessi partecipare, che maurerei, è una macchina un po' più comoda. Lo ricordiamo, ce lo è. O comunque proprio una non macchina, perché l'abbiamo molto sofferta, perché poi c'eravamo tutte le luci, quindi non è che potevi uscire ogni ciardo, dovevi stare lì un'ora e mezza prima di scusate, fatemi uscire perché sennò dovrei capocciate contro il cruscotto. Anche di essere ancora sulla macchina. No, vieni, ricordiamoci questa cosa della macchina. C'è il personaggio di Palmira che dice io in questo ruolo, appunto, fa la centralinista, ci sono sprecata in questo lavoro. Gli è mai capitato di dire io in questo ruolo sono sprecato? D'attore? D'attore. Eh, vabbè, sì, no? Soprattutto all'inizio. Eh, sì. Io il primo spettacolo che ho fatto sono stato quattro ore in piedi con la lancia in mano a fare la alabbardiera e dicevo tun tun tun, sì, signor giudice. Queste erano quattro ore delle cose e dicevo questo. Penso ad essere, insomma, se non pensavo anche all'inizio della mia carriera ad essere sprecato per un ruolo del genere, avrei dovuto cambiare un mestiere subito. Ma insomma, capita, capita, voglia. Come no. Anche in maniera non giusta e presuntuosa, eh, per carità, perché poi siamo tutti un po' presuntuosi. Grazie. 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 Grazie.